Ha distrutto la vetrina per rubare una bici elettrica esposta all'interno del negozio. Sembra essere un classico furto con spaccata quello verificatosi nei giorni scorsi in corso Vittoria Emanuele, in pieno centro storico cittadino. Stavolta essere preso di mira un locale utilizzato per l'esposizione di biciclette elettriche. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti della sezione volanti per risalire all'autore del gesto. Alcune indicazioni potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di sorveglianza. Non è il primo furto che si registra a Caltanissetta con queste modalità. Nelle scorse settimane un caso analogo aveva interessato un noto locale cittadino di Viale Luigi Monaco e in passato altri negozi erano stati bersaglio di chi ricorre a questa pratica in cerca di refurtiva.